Arri ciao a tutti ragazzi perché sicuramente già avrete visto il video che non andava costretto a rifarlo per la terza volta e speriamo che vada bene dunque decisamente questa domenica non sta andando bene visto il risultato di Leclerc e visto il risultato dei video che ho dovuto continuare a rifare portando ulteriore ritardo sia alla pubblicazione che al mio andare al lavoro comunque non si poteva vedere quel video là che andava a scatti allora spero di poter ridire tutto ciò che ho detto nel video passato in modo da essere sicuro di anzi forse aggiungiamo qualcosina in più allora io la gara la vorrei riassumere in due immagini fondamentalmente la prima questa un sorpasso fatto all'ultimo giro che ci dà la possibilità di piangere con un occhio solo perché mi rende molto molto più dolce una pillola amara della mancata vittoria che ieri ragazzi vi aveva un po come dire preparato però oggi ci si sperava soprattutto dopo quella partenza assurda da parte di verstappen che ha costretto Leclerc a dover rimontare con tanto di sorpasso in pista sul pilota olandese andiamo a vedere la partenza perché allora dire che noi abbiamo un pilota che davvero vale tanto oro quanto pesa è sminuitivo dobbiamo dargli una macchina a questo ragazzo veramente se lui avesse avuto quest'anno una vettura non dico competitiva come la red bull ma capace di andare a impensierire la red bull avremmo goduto di un mondiale totalmente diverso di gare molto più spettacolari e soprattutto sono sicuro che se la sarebbe giocata fino alla fine e correttamente perché lui non ha bisogno di quei giochini alla max verstappen ormai possiamo dirlo con tanto di scusa banale detta dopo che i piloti sono scesi dalle vetture e Leclerc gli ha fatto il segno a verstappen e lui gli ha detto scusa sono arrivato lungo avevo le gomme fredde non mi hanno preso dai secondo me Leclerc gli ha calato la testa così ma giusto per per tagliarla lì ma non ci ha creduto neanche uno 0,1 per cento nello scorso video avevo detto un per cento non neanche uno 0,1 per cento quindi tornando a noi ragazzi prima questa cosa qui che ripeto ci ci fa capire quanto talentuoso sia il numero 16 della ferrari ha fatto una manovra e ve lo dico da istruttore ve lo dico da pilota millesimale non millimetrica millesimale perché con il graining sulla gomma anteriore andare a stampare un sorpasso del genere quando sei lontano senza avere il minimo bloccaggio significa che sei un fuoriclasse assoluto lo ha fatto nell'ultimo istante disponibile all'ultimo giro nell'ultima curva che glielo poteva permettere e quindi proprio per questo vale di più Perez ha fatto l'errore di non chiudere nonostante fosse tanto avanti avesse chiuso non sarebbe stato riattaccato in uscita da quella curva perché non c'era lo spazio quindi complice un Perez un po addormentato è venuto fuori un sorpasso da cineteca da cineteca e poi curva 1 come ho già detto tre volte stamattina allora praticamente la formula 1 tende a non mostrare subito determinate tipo di immagini e quindi ci accontentiamo di questa con i due protagonisti che sono qui ma non voglio parlare di quello che è successo in questa zona della griglia di partenza ma bensì della partenza della red bull che ragazzi diciamo quello che che volete hanno trovato qualcosa perché non mi venite a dire che leclerc è partito male guardate che vantaggio ancora una volta ha sulle vetture subito dietro russell doveva quantomeno insidiarlo gaslì la stessa cosa invece verstappen ha una messa a terra della potenza un rilascio della frizione che non è normale lui già gli aveva preso non gli ha dato neanche la possibilità di chiudere questa volta leclerc voleva chiudere ma poi ha fatto una cosa veramente brutta cioè a dire in curva 1 i due sono arrivati qui e verstappen lo ha letteralmente accompagnato fuori facendogli rischiare di perdere la posizione anche su russell cosa che non è fortunatamente avvenuta e poi gli hanno dato dopo un bel po la penalità ora quello che dico io è perché questa penalità che tra l'altro mi sono commosso fazzolettino ho pianto tantissimo siamo passati col mocio per terra perché ero veramente tanto commosso di questa penalità arrivata a verstappen ma siamo pazzi ma siamo pazzi ebbene è arrivata questa penalità ma con tanto ritardo ma ragazzi ma che cosa c'era di così importante da discutere era una cosa plateale le penalità vanno date prima e forse certe manovre andrebbero penalizzate un pochino di più andiamo avanti partenza ragazzi red bull ha qualcosa da qualche gran premio nel sistema di partenza veramente incredibile perché non lo si spiega altrimenti come come si fa a partire in questo modo cioè tutto mi sarei aspettato tranne che loro partendo dal lato sporco e avendo la prima curva a un soffio dalla dallo start riuscissero a girare per primi la prima curva curva 1 assolutamente c'è qualcosa sulla quale le altre squadre devono assolutamente lavorare poi perché dico che le claire è davvero un fuoriclasse assoluto sto vedendo una cosa che la cpu quando torno sulla mia immagine schizza alle stelle c'è qualcosa che non va spero che questo video non vada a scatti allora guardate qui no sbagliato di nuovo come nell'altro video guardate qui che cosa ha fatto le claire quando aveva dei giri in più parleremo anche di questo sugli pneumatici praticamente andava a tagliare questa curva ma lo faceva andando a sfruttare il bordo del cordolo il bordo interno del cordolo e la spalla del pneumatico interna alla curva per quale motivo interna e del pneumatico interno alla curva per quale motivo faceva questo uno quando hai sottosterzo tendi a tagliare un po la curva ma soprattutto ragazzi lui cercava di far fare perno alla ruota anteriore in modo da incastrarla quasi qui in questo solchettino che c'è rischiando anche un po lo skid e fargli fare un effetto compasso per diminuire il sottosterzo andiamo alla safety car perché ragazzi safety car arrivata nel momento più sbagliato per la ferrari perché la ferrari in questo momento con le claire che non è qui inquadrato aveva uno una ruota più fresca rispetto a quella di verstappen era davanti e proprio nel giro in cui stava per entrare la safety car un giro prima aveva acceso le gomme e quindi stava andando sempre più verso una probabile vittoria cosa succede succedono due cose questo video verrà più breve perché diciamo rispetto a quello che andava a scatti di poco fa ormai sono abituato a dire le stesse cose le dico più velocemente sto accelerando perché c'è una premura incredibile comunque stavo dicendo allora succede questo succede che la safety car arriva nel momento più sbagliato quando un team è fortunato è fortunato e basta quando un pilota è fortunato c'è poco da fare è fortunato e basta però ha sbagliato il muretto 1 2 facciamo questa premessa tecnica spero davvero di non andare a scatti allora quando un pneumatico è nuovo anche se tu fatichi ad accenderlo a farlo entrare nella giusta finestra di temperatura succede che comunque glielo porti più facilmente e non hai graining alla fine quando un pneumatico invece è usato entra la safety car ti fa crollare le temperature e poi di conseguenza tu fatichi a riaccenderlo ma sei costretto a farlo velocemente perché ti stai giocando la posizione sei in gara allora quella ruota si accenderà molto più tardi e soprattutto ragazzi avrà un problema di graining prima che poi non è vera sta cosa che abbiamo sentito in tv che il graining non si toglie se tu fai dei giri più veloci il graining tende a diminuire dipende dalle condizioni della pista dipende da un sacco di cose però tende a diminuire allora che cosa è successo ragazzi succede che in ferrari si poteva valutare un cambio gomme vero è col senno di poi è facile dirlo c'è di mezzo anche un errore durante il pit di leclerc all'anteriore destra che non voleva entrare quindi un cambio gomme più o meno di un secondo e mezzo più alto perché era quasi di quattro secondi però ragazzi secondo me era da valutare questo aspetto tecnico cioè far rientrare il pilota così come aveva fatto Perez forse non l'avrebbe fatto Verstappen però tu con un set di gomme più fresche più nuove ti saresti potuto giocare di più certo col senno di poi da casa è facile è facile anche dire se sei davanti cerchi di restarci però ragazzi la vittoria si è giocata tutta lì e quando leclerc l'ha saputo dentro la limousine ha detto come per dire cavolo abbiamo sbagliato ci siamo mangiati la vittoria questa volta questa valutazione non ottimale è meno macroscopica di altre volte e ripeto stando comodamente seduti a casa o qui come dire dopo il gran premio è più facile però c'era da valutare che era in regime di safety car quindi col cambio pneumatici leclerc sarebbe finito in zona Verstappen quindi non troppo lontano io me la sarei giocata però in ogni caso è anche vero che se la gara fosse partita con due vetture rosse lì davanti si poteva fare una differenziazione delle strategie e si poteva assolutissimamente non so se lo notate mi sto muovendo poco per fare andare meno in crisi il pc e si poteva assolutissimamente provare a giocare a due punte contro una cosa che poi si è ribaltata sul finale di gara anche perché ragazzi red bull ha dimostrato ancora una volta la sua totale forza anche con perez che nonostante un assetto molto carico era lì davanti partendo dietro giocandosi anche lui il podio il secondo posto e perché no la vittoria se avesse avuto un ala un pochino più scarica cosa che non è successa quindi red bull è fortissima proprio per questo motivo avendo questa consapevolezza e avendo avuto questo regalo dell'ultimo giro da parte di leclerc la sconfitta di oggi è un pochino più dolce poi chiudo dicendo le ultime tre cose uno sainz poteva in questa fase della gara ostacolare un pochino di più la rimonta di best happen facendo un po il gioco di squadra non l'ho mai detto però stavolta lo dico mi tolgo questo sassolino dalla scarpa non lo ha mai fatto durante questa stagione mai mai e questa cosa va discussa una volta a maranello perché anche se tu fai un movimento millimetrico sul dritto gli fai perdere quel minimo di di come dire di tempo due millesimi tre millesimi tre centesimi ma intanto ci sono poi ai box chi c'era ovviamente appuntamento mondano avevamo john elcan e benedetto vigna che guardavano la gara vediamo se ce la faccio a fare lo sguardo degli altri video prima così ebbene ragazzi ma venite fuori dai box avrete 50 giornalisti che vi assediano dite le due parole in merito a come è stata trattata la ferrari in questo weekend ai danni ai danni a livello di posizione siamo a quattro punti dalla mercedes ragazzi quattro punti dalla mercedes e alla fine dei conti avremmo potuto essere davanti e giocare sulle difensive in una pista che invece non è buona per la ferrari quindi un vero peccato un'occasione un'ulteriore occasione sprecata per far valere i diritti della ferrari ma più passano le gare i gran premi gli anni e più mi rendo conto che non gliene frega niente e infine il layout della pista la pista di peppa pig tutto sommato ci ha regalato tre cose uno una gara spettacolare due vabbè ci ha fatto un regalo brutto venerdì ma quello ormai lo sappiamo due i piloti si esaltano arrivando a gomme fredde in queste esse dove le vetture galleggiano scivolano quindi per questo c'è la componente divertimento dal punto di vista della guida terza cosa la sicurezza è molto più sicura questa pista con le ampie vie di fuga rispetto all'incidente di norris che ci ha rotto le scatole lo dimostra anzi no lui no ha rotto le scatole russell con verstappen per quei detriti e l'incidente lo dimostra molto più sicura questa ad esempio di jedda e perché no anche di miami quindi da questi tre punti di vista promossa io scappo al lavoro oggi l'ho già presentato il video fatto prima abbiamo matteo magnanelli che è un nuovo pilota che arriva dalla liguria ieri in pista al suo primo giorno ha dimostrato di essere davvero stratosferico bravissimo un pilota così buono difficilmente lo trovi alla prima uscita in pista alla prima esperienza su un mezzo da corsa serio e sono molto contento devo andare a lavorare con lui che in questo momento mi sta odiando per il ritardo che sto portando gli chiedo scusa già in questo video bene ragazzi è tutto vi saluto vi lascio vi prego di lasciare un like un commento comunque ci saranno altri video durante la giornata iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao matteo mi aspetta ciao